buongiorno a tutti allora le partite di ieri ve ne ho già parlato con la schedinetta quindi è inutile naturalmente sto parlando di europa league quindi inutile che vi sto a ripetere come sono andate eccetera ve l'ho già detto nell'altro video veniamo invece come sono messi i gironi perché uno pensava che qualche squadra si è già qualificata qualche squadra invece se la dovrà ancora giocare e in qualche girone è veramente un rebelot perché non è tutto in divenire per intenderci dove non è in divenire il gruppo a perché praticamente il bayern leverkusen è a 9 punti lo zurigo è a 9 punti il ludogorez è a 2 punti e la e k larnaca è a 2 punti quindi zurigo e bayern leverkusen dovranno giocarsi il primo posto in più il bayern leverkusen aveva battuto cioè aveva perso 3 a 2 zurigo e ieri sera ha battuto 1 a 0 lo zurigo quindi praticamente se vale la regola del gol che vale doppio il leverkusen è in vantaggio perché ha perso 3 a 2 in trasferta ha vinto 1 a 0 in casa quindi per la regola del gol che vale doppio il bayern leverkusen è primo lo zurigo è secondo come differenza reti in questo momento il bayern leverkusen è a più 3 lo zurigo è a più 2 quindi anche in questo caso il bayern leverkusen è primo lo zurigo è secondo però mancano ancora due partite che sono le seguenti zurigo e k larnaca e bayern leverkusen ludogorez prossimo turno quindi sulla carta dovrebbero rivincere tutte e due bisogna vedere chi segna di più all'ultima giornata ci sarà e k larnaca bayern leverkusen leverkusen e zurigo e vale lo stesso discorso bisogna vedere innanzitutto se entrambe vinceranno e poi quanti gol faranno comunque il girone a deve solo decidere chi è prima e chi è seconda tra bayern leverkusen e zurigo girone b e qua diciamo che è più tra virgolette incasinato per la seconda piazza perché abbiamo il salisburgo già bello felice contento con quattro vittorie di fila 12 punti praticamente vedendo anche le partite che si devono giocare potrebbe essere ancora raggiunto perché la prossima sarà salisburgo lipsia e rosenberg celtic perché la classifica vede appunto salisburgo primo a 12 l'ipsia e celtic seconda e appare in merito a 6 con una differenza reti che vede il lipsia a più 4 rispetto al celtic perché lì se ha più 2 e il celtic a meno 2 però attenzione prossimo turno ci sarà salisburgo lipsia e rosenberg celtic rosenberg già eliminato quindi il celtic potrebbe sfruttare il fatto che si affrontano salisburgo e lipsia per cercare di sopravvanzare il lipsia il lipsia a sua volta deve cercare di non perdere contro salisburgo per giocarsi tutto all'ultima giornata perché all'ultima giornata il lipsia giocherà in casa con il rosenberg mentre il celtic giocherà in casa con un salisburgo che ormai è già qualificato quindi attenzione perché può succedere ancora di tutto il salisburgo è ancora rischio perché se dovesse perdere malauguratamente in casa con il lipsia poi dovrebbe andare a glasgow e cercare di non perdere perché se il celtic lo baste ci potrebbe essere una situazione con tre squadre a 12 punti quindi il gruppo b vede il salisburgo a cui basta un punto per essere sicuro del primo posto ma se lo deve guadagnare con le altre due avversarie che sono a sei punti quindi il gruppo b ancora in divenire veniamo al gruppo c gruppo c che vede lo zeni san pietroburgo primo con otto punti lo slavia praga secondo con sette il copenhagen terzo con cinque e il bordeaux che ahimè non è ancora eliminato ma quasi perché sulla carta potrebbe ancora arrivare a sette punti le prossime partite saranno zeni san pietroburgo copenhagen e bordeaux slavia praga quindi se il bordeaux dovesse battere lo slavia praga riapre il discorso perché si porterebbe a tre punti dallo slavia praga però poi dovrebbe andare a vincere a copenhagen e bisognerà vedere il copenhagen dove come sarà messo perché giocando con lo zeni san pietroburgo fuori casa e lo zeni servono punti perché se no può essere a sua volta raggiunto dallo slavia quindi anche questo è un gruppo ancora in divenire in cui addirittura lo stesso bordeaux se dovesse vincere le ultime due potrebbe ancora dire la sua e puntare a un secondo posto certo allo slavia praga basta un punto per dire al caro bordeaux ciao però col fatto che la prossimo turno c'è bordeaux slavia e praga tutto può accadere perché se il bordeaux bate lo slavia riapre il discorso anche perché poi lo slavia avrebbe lo zeni san pietroburgo in casa e bisognerà vedere il san pietroburgo cosa ha fatto col come naga se ha vinto magari può dire prego slavia passa perché tanto io sono già primo ne voi non mi potete raggiungere ma se no diciamo che anche questo è un gruppo ancora in divenire e zeni san pietroburgo sicuramente favorito perché per il più gioca in casa col copenhagen la prossima e può chiudere completamente il discorso però sapete che nel calcio non si può dare nulla per scontato quindi anche il gruppo c il gruppo c è tutto in divenire veniamo al gruppo di stessa situazione del del gruppo c del gruppo a b scusate sì esatto nel gruppo b perché abbiamo una squadra 12 punti che la dinamo zagabria che è già qualificata poi abbiamo il fenerbace che ha già un piede e mezzo nei sedicesimi ma che comunque deve ancora giocarsela con lo sparta tarnava e il ballanderle perché abbiamo la dinamo a 12 bella felice contenta al primo posto il fenerbace a 7 che sulla carta può ancora sorpassare la dinamo zagabria per il primo posto ma non per la ma non può togliergli la qualificazione lo sporti carnava a 3 quindi a 4 punti dal fenerbace ma con due partite ancora da giocare tutto può può succedere e l'anderlet a 1 che sulla carta potrebbe ancora arrivare a 7 e poi vedere un attimino come andrà anche se bisogna dire che lo scontro diretto tra fenerbace e anderlet vede nettamente in vantaggio il fenerbace quindi direi che il povero anderlet è eliminato quindi veniamo alle ultime partite perché l'anderlet giocherà in casa con lo sport tarnava però non ha più niente da chiedere l'unica cosa che può fare eliminerebbe definitivamente il tarnava il fenerbace invece gioca in casa contro la dinamo zagabria per cercare tra virgolette di portargli via il primo posto perché comunque potrebbe andare a 10 poi c'è l'ultima giornata con tre punti ancora in paglio potrebbe cercare di sopravvanzarla tenendo conto che la partita d'andata tra dinamo zagabria fenerbace è finita a 4 a 1 quindi la fenerbace non solo dovrebbe vincere ma magari cercare anche di fare qualche gollettino in più anche se poi alla fine della fiera sì e no perché potrebbero finire a pari e quindi diventerebbe inutile perché poi l'ultima giornata il fenerbace andrebbe a giocare con lo sparta tarnava che potrebbe aver bisogno di punti quindi magari un punticino gli basterebbe per qualificarsi no non gli basterebbe se la gioca perché lo sport a tarnava deve battere l'anderlet intanto andare a brussella vincere e poi giocarsi tutti in casa contro il fenerbace tenendo sempre conto che deve vincere 3 a 0 perché all'andata l'anderlet vinse cioè il fenerbace vinse 2 a 0 contro il tarnava quindi se vuole andare a pari però bisogna sempre vedere cosa farà con la dinamo zagabria il fenerbace e quindi qui anche questo è tutto in divenire vedremo con la quinta giornata naturalmente dinamo zagabria favore ormai promossa fenerbace che se non perde contro in casa contro il il tarnava cioè non perde fuori casa l'ultima col tarnava o comunque mi batte la dinamo zagabria nell'ultima giornata chiude il discorso subito perché se vince basta fenerbace a 10 anche se il tarnava dovesse battere l'anderlet va a 6 ma non è più raggiungibile il fenerbace deve sperare il tarnava che la dinamo zagabria vada a vincere in turchia cosa abbastanza improbabile perché probabilmente giocherà per un buon pareggio che fa felici tra virgolette tutte e due veniamo dopo il gruppo d al gruppo e che vede l'arsenal al primo posto già qualificato lo sport in lisbona nelle stesse condizioni del fenerbace a 7 il volskla e il quara bag che sono a tre punti quindi tendenzialmente potrebbero ancora dare del leggero fastidio allo sport in ma credo che i giochi siano ormai fatti comunque il prossimo turno cioè quara bag sport in lisbona e volskla and arsenal qualora qualora sarà difficile quara bag ha segnato il primo gol oggi in quattro partite ha fatto un gol quindi non penso che possa riuscire a batterlo sport in lisbona però qualora dovesse riuscire a fare il miracolo di batterlo sport in lisbona riapirebbe tutto il discorso perché poi all'ultimo turno c'è sport in lisbona boskla e arsenal qualora bag e credo che siano due passeggiate di salute per le due favorite del ginone io credo che arsenal primo e sport in secondo a meno che non succede un finimondo veniamo al gruppo f quello del milan e qua c'è da ridere perché comunque il betis a otto punti il milan ea 7 l'olimpiacosca massacrato l'ugelange nea 7 e poi c'è l'udelange ha eliminato a zero il prossimo turno c'è milan dudelange e betis olimpiacos quindi cosa succede il milan va a 10 perché non credo che possa lasciarsi sfuggire la grande occasione di fare un po di gollettini far segnare un po di gol a cutrone company contro il derelitto dudelange che speravo facesse un pochettino meglio visto come sono andate le qualificazioni a questa europa league nei preliminari mi aveva sorpreso ripeto mi aveva sorpreso e poi è tornato a fare la squadra lussemburghese come al solito e poi c'è betis olimpiacos il problema è molto semplice si dà per scontato che il milan batta tranquillamente il dudelange lì non ci piove e che il betis batta l'olimpiacos per essere sicuro della qualificazione ma se malauguratamente betis olimpiacos dovessero pareggiare anche perché tanto il betis l'ultima la gioca col dudelange quindi la chiude lì il betis andrebbe a 9 l'olimpiacos andrebbe a 8 con il milan a 10 l'ultima c'è olimpiacos milan all'olimpiacos basterebbe battere il milan con qualsiasi risultato non è più costretto a vincere con due gol di scarto perché c'è il 3 1 dell'andata gli basterebbe vincere col milan non è facile sicuramente per l'olimpiacos battere il milan però è un rischio che il milan potrebbe correre viceversa se come si spera il betis dovesse battere l'olimpiacos al milan basterebbe anche perdere solo di un gol di scarto 2 a 1 3 a 2 1 a 0 eccetera per avere la differenza negli scontri retti a suo favore passare comunque il turno come seconda squadra a 10 punti quindi è tutto è tutto in divenire anche qui perché attenzione a betis olimpiacos quello che può succedere perché il betis addirittura potrebbe permettersi di perdere con l'olimpiacos mandando l'olimpiacos a 10 il milan a 10 poi olimpiacos e milan si affronterebbero tra di loro e poi il betis giocherebbe col due lunch quindi il betis andrebbe comunque a 11 se olimpiacos e milan pareggiassero bisognerà vedere se arrivano tutti e tre a 11 la classifica vulsa e lì c'è il betis che potrebbe essere in negativo con l'olimpiacos ma in positivo col milan l'olimpiacos che è in positivo con con il betis ma in negativo con il milan quindi succederebbe un quara quara quindi attenzione perché il girone del milan è ancora bello incasinato veniamo al girone g e questo è quello è quello uguale identico al girone del napoli perché abbiamo il villareale a sei punti sparta mosca e rangers glego a 5 rapid vienna a 4 quindi tutte si possono qualificare le prossime giornate vedremo rangers villa real e sparta mosca rapid vienna e qua qualcuna potrebbe rischio rapid vienna di essere eliminata c'è perché comunque se il rangers batti villa real o viceversa una delle due si allontana si allontanerebbe automaticamente anche lo sparta mosca e quindi per il rapid vienna non le due squadre non sarebbero più raggiungibili perché essendo rangers a 5 e lo sparta cac 5 loro a 4 se queste due squadre vincono orribile real e lo sparta mosca vincono 9 8 e il rapid vienna è già fuori mentre invece il rangers potrebbe ancora giocarsela visto che poi rapid vienna rangers quindi anche questo è un girone tutto in divenire sulla carta la favorita principale al villareal però non lo do per scontato anche perché comunque deve andare a giocare a glasgow che non è facile e poi avrebbe lo sparta mosca in casa che non è una squadra da sottovalutare visto anche la partita che ha fatto ieri sera in rimonta con i rangers quindi queste se la giocano tutta fino alla fine credo che forse settimana prossima avremo una eliminata ma le altre se la potranno giocare ancora nell'ultima giornata veniamo al gruppo h gruppo h che vede lazio e aintra francoforte che si giocheranno il primo posto nelle ultime giornate perché la prossima vedrà l'apollo limassol giocare con la lazio quindi la lazio può andare a 12 la intran francoforte giocherà in casa col marsiglia quindi può andare a 15 e poi nell'ultima giornata ci sarà lo scontro diretto tra le prime due lazio aintra francoforte tenendo sempre conto che purtroppo la lazio ha preso quattro papine nella gara di andata è finita 4 a 1 quindi per prendersi il primo posto o la intran francoforte si suicida col marsiglia ma lo credo improbabile o se no la lazio è costretta a vincere con tre gol di scarto contro la intran francoforte possibilmente 3 a 0 perché se vince 5 a 2 c'è la solita differenza gol se ne tengono conto e quindi sarebbe la intran a finire primo quindi credo che la classifica finale potrebbe vedere le due squadre anche appaiate ma la intran francoforte primo la lazio seconda è solo un problema di poi quando devi andare a fare il sorteggio che magari la la lazio potrebbe finire dalla parte sbagliata del dei sorteggiati per intenderci vedremo poi dove la metteranno però il rischio di arrivare seconda c'è sarebbe meglio evitarlo perché potresti prendere una delle squadre che arrivano dalla champions veniamo al gruppo i gruppo i anche questo come il gruppo del gruppo g che è abbastanza incasinato perché abbiamo il gen ca sette punti sarsburg e malmò a 5 besittas a 4 prossimo turno c'è sarsburg besittas e malmò genc quindi le squadre che sono dietro no le squadre che sono dietro no il sarsburg può chiudere il discorso col besittas battendolo e lo elimina automaticamente il genc a sua volta deve stare attenta al malmò perché se il malmò lo dovesse battere lo sorpassa e poi ci si decide tutta l'ultima giornata dove ci sarà besittas malmò e bisognerà vedere il besittas in che posizione è e c'è sarsburg che sulla carta potrebbero decidere o chi vince al girone o chi arriva secondo quindi è ancora questo anche questo è tutto in divenire vedremo nel prossimo turno che cosa succederà però devo dire che anche il girone i è un bel gironcino ancora incasinato veniamo al girone j girone j vede il krasnodar e il siviglia a nove punti lo standard liegi a 6 e ahimè la chisar che saluta gli ultimi due torni vedranno lo standard diegi giocare in casa col siviglia e giocarsi le ultime chance di poter passare il girone se vince si porta sotto raggiungere il siviglia e poi si gioca tutto all'ultima giornata viceversa il krasnodar giocando in casa col povero a chisar ha due tre punti quasi sicuri e magari potrebbe sperare nel pareggio tra standard liegi e siviglia per essere certo della qualificazione perché qualora se lo standard liegi dovesse battere il siviglia ci sarà molto da ridere perché poi l'ultima giornata si giocherà a siviglia krasnodar mentre invece lo standard liegi potrebbe felicemente andare ad akisar vincere a giocare con l'akisar sbeledia espor squadra turca se non sbaglio e passare lui il girone furbescamente quindi tutto dipende dalla prossima giornata da cosa esce da standard liegi siviglia perché poi il krasnodar se va a 12 e lo standard liegi non batte il siviglia è a 7 il siviglia va a 10 e poi possono fare tranquillamente un bel biscottone col krasnodar o anche battere il krasnodar che tanto è già qualificato e siviglia non lo può più raggiungere perché qualora pareggiassero lo standard liegi va a 7 il siviglia va a 10 anche se lo standard batte all'ultima giornata il fanalino di coda al siviglia basta un punto in casa col krasnodar cosa già abbastanza scontata se non addirittura quindi sulla carta tutto dipende da standard liegi siviglia se liegi batte il siviglia diventa favorito per passare il turno e obbliga anche se il siviglia a sbattere il krasnodar però attenzione perché potrebbero trovarsi tutte le 12 punti perché il krasnodar ci arriva già con la prossimo turno e quindi a quel punto bisogna vedere gli sconti diretti allora krasnodar e standard liegi sono perfettamente in parità perché lo standard liegi ha vinto 2 a 1 col krasnodar e krasnodar ha vinto 2 a 1 con lo standard liegi il siviglia a sua volta ha battuto 5 a 1 lo standard liegi quindi sulla carta il siviglia dovrebbe essere favorito però attenzione perché il siviglia col krasnodar ci ha perso 2 a 1 quindi è tutto un divenire anche qui dipenderà molto da standard liegi siviglia e vedremo cosa succederà veniamo al gruppo k dove c'è astana e dinamo kiev che hanno praticamente la qualificazione quasi in tasca con 8 punti a pari merito il ren è a 3 lo yablonek è a 2 il prossimo turno vedrà proprio yablonek ren e la sfida tra astana e dinamo kiev per il primo posto e lì dipenderà molto dal risultato di astana e dinamo kiev perché se e sottolineo se il ren dovesse vincere con lo yablonek fuori casa quindi non è detto si porterebbe a 6 e poi potrebbe vedere chi tra astana e dinamo kiev ha vinto e cercare di puntare sull'altra visto che l'ultima giornata ci sarà proprio dinamo ren astana era in astana è lo scontro diretto che potrebbe dare ancora qualche piccola chance alla squadra francese di riuscire a qualificarsi tra attenzione perché se la dinamo dovesse battere invece la stana fuori casa a quel punto ren astana diventa uno scontro fraticida vero e proprio cioè chi vince passa per intenderci con la stana che ha due risultati su tre se invece la stana vinceva 11 penso che per il ren non ci siano speranze perché comunque anche se dovesse vincere andrebbe a 6 ma non potrebbe raggiungere la stana e la dinamo kiev anche se resta 8 gioca in casa con lo yablonek quindi avrebbe tre punti facili andrebbe a sua volta a 11 quindi il ren anche sbattendo la stana andrebbe a 9 non li può raggiungere quindi diventa importante astana di mano kiev il risultato che viene fuori per il ren sarebbe importante un bel pareggio per avere ancora qualche piccola chance di qualificarsi ma comunque vedo astana e dinamo kiev favoritissime veniamo all'ultimo gruppo che è l'l vi avrò abbastanza stancato i testi però manca solo questo e attenzione perché abbiamo un celsi bello fresco a 12 punti il vidi che ha perso le prime due partite in maniera clamorosa perché perse la prima col bate boris in casa 2 a 0 poi perso una 0 in casa del celsi poi clamorosamente l'ultima settimana è andata a vincere in casa del pauk e adesso ha battuto nuovamente il pauk 1 a 0 la prossima partita ci sarà celsi pauk che ormai pauk è lì a 3 però temo che per il pauk non ci siano grosse speranze mentre invece bate boris of vidi diventa a questo punto basilare perché se il vidi non dovesse perdere col bate boris of si porterebbe a più tre sul bate boris of e avrebbe addirittura no non avrebbe l'auscantolo diretto a favore quindi dovrebbe ancora giocarsela però le basterebbe un pareggio col col celsi nell'ultima giornata mentre il pauk se la giocherebbe col bate boris of quindi celsi favoritismo per il primo posto già quasi sicuro eccetera vidi pauk e bate che si giocano ancora la possibilità di arrivare secondi nell'ultimo turno anche se la prossima sfida ci sarà celsi pauk e temo che una sconfitta del pauk a meno che bate boris of e se bate boris of e vidi pareggiano eccetera il pauk è eliminato perché comunque il vidi è 6 se il pauk vince va a 6 anche lui allora il bate boris of ha ancora qualche speranza e se la giocherà no scusate il pauk ha ancora qualche speranza se la giocherà in casa col bate boris of perché comunque il bate è a 6 quindi il pauk potrebbe raggiungerlo a 6 e poi vedremo gli scontri riretti tra l'altro il pauk era andato a vincere in casa 4 a 1 del bate boris of quindi è ancora tutto da giocare è logico se il vidi dovesse invece pareggiare o vincere col bate chiude tutti i discorsi perché andrebbe a 9 però attenzione perché il bate gioca in casa col vidi quindi può tranquillamente vincere andare a 6 e quindi qui il secondo posto se lo giocano ancora tutti e probabilmente se lo giocheranno fino all'ultima giornata bene io ho parlato anche troppo 28 minuti di video piedo venia però era interessante vedere la situazione di questi bei gironcini di europa league che tutti dicono che l'europa league è una pena eccetera invece devo dire che se le stanno ancora giocando e non poco certo alcune squadre erano già strafavorite già felici e contente altre si sapevano che sarebbero state eliminate però molti gironi sono ancora tutti da giocare e molti probabilmente si risolveranno proprio all'ultima giornata quindi per gli scommettitori ci sarà sempre da stare attenti e vedere un attimino quali squadre si stanno giocando la qualificazione quali squadre magari sono già qualificate potrebbero mandare in campo le seconde linee eccetera e quindi attenzione a quando dobbiamo fare le bollettine quindi il 28 29 eccetera quando ci saranno le le partite 27 28 29 champions league europa league dovrò guardare anche quello bene io vi saluto vi ringrazio chiedo scusa per la lunghezza del video e adesso mi appresto a fare le mie bollette ciao